Davide Bettella, benvenuto a Pescara, le tue prime impressioni appena arrivato. Io sono arrivato l'altro ieri sera, subito mi è piaciuto la città, il posto, il centro sportivo. La cosa che mi ha fatto più piacere è incontrare compagni e staff che mi hanno accolto benissimo. Potevo, pensavo di venire qua e trovare gente che magari si credesse un po' invece persone umili che puntano sul lavoro, invece sono molto contento. Con che hai giocato, chi conosci dell'attuale Rosa, dei tuoi nuovi compagni di squadra? Io ho giocato con Melegoni, Capone e Antonucci in nazionale e con Gravion quando ero ancora all'Inter insieme a me. Sono tutti giocatori forti per i quali puntano a diventare calciatori importanti in futuro. Ecco, la tua prima esperienza in prima squadra proprio da giocatore, hai trovato già differenze rispetto alle giovanili? Beh sì certo, il livello tra prima squadra soprattutto di Serie A e la primavera cambia tutto, cambia tutto il modo di giocare, di esprimersi, cambia il modo di giocare, la vittoria, la sconfitta contro i punti, la tifoseria, tutto cambia. Quindi è un calcio nuovo per me, quindi cercherò di migliorare. Chiudiamo con una risata, hai già provato gli arossicini o in caso li mangerai domenica per festeggiare un possibile risultato positivo con la Cremonese? No, inizialmente appunto la prima sera dovevo mangiarli ma il ristorante era chiuso, quindi cercherò di andarci uno di questi giorni.